La gestione in aus e l'eccezione non la regola e la scelta l'ha fatta la politica. Il timore è che le bollette aumentino senza che il servizio sia migliorato. Questi in sintesi i temi della nota consegnata agli organi di stampa dagli otto consiglieri della provincia di Ragusa che sabato hanno tenuto una conferenza per parlare di Bleacque. Da Scicli, Pozzallo, Ispica, Comiso, Santa Croce e Vittoria parte la protesta e l'azione con nota rivolta all'ANAC. Primo punto la modalità di gestione che ha portato alla nascita di Bleacque S.P.A. A differenza del messaggio veicolato in provincia, cioè che la scelta di modalità di gestione dell'acqua pubblica è una discrezionalità della politica, spiegano i consiglieri, risulta invece l'opposto. La legge prevede che la scelta sia individuata, certificata ed espletata tramite una relazione tecnica che l'ATI ha si effettuato ma omettendo tutta una serie di questioni, soprattutto la motivazione, aggravata ed è proprio su questo punto che è stata fatta la segnalazione all'ANAC. Poi il secondo punto, quello più vicino alle esigenze ma soprattutto alle tasche dei cittadini, anche perché, spiegano i consiglieri nella nota, i comuni dovranno continuare a risolvere con proprie risorse le emergenze idriche, come il comune di Ispica, che questa è stata dovuta anticipare nonostante le gravi difficoltà finanziarie, 132 mila euro, che a quanto pare Bleacque dovrà rimborsare. E lo stesso è accaduto in altri comuni. Ma davvero questi soldi saranno restituiti? Quando nel maggio del 2022 fu approvato l'atto costitutivo di Bleacque, spiegano ancora i consiglieri, all'interno di questo veniva specificatamente individuato che laddove la società avesse avuto dei debiti e questi non potevano essere ripianati dai fondi della stessa, i singoli comuni, quota parte, dovevano impegnarsi per rifondere questi debiti. Per i consiglieri comunali a fare le spese di tutto ciò sono i cittadini, finiti nel Titracarne, in quanto stanno iniziando ad arrivare le bollette già targate e Bleacque, ma con delle presunte stime di pagamento. Non si tratta quindi di conteggi reali. Nei fatti il timore è che le bollette aumenteranno, ma i cittadini pagheranno per un servizio che non è migliorato. I consiglieri presenti in conferenza stampa hanno dunque concluso evidenziando che le nostre città meritano rispetto e un partner che garantisca servizi efficienti, investimenti importanti e soprattutto rispetto ai diritti di tutti noi cittadini consumatori riconosciuti dall'Europa e dallo Stato.